Siamo nella scuola media Papa Giovanni XXIII, di Chiaiano, oggi è una giornata molto importante, fondamentale, ci sta la presentazione di un progetto, di una creazione di un nuovo parco. Siamo ospitati in questa scuola dove il responsabile regionale del coordinamento regionale dei genitori democratici, Salvatore Napoli, con la dottoressa Borrelli, si spiegano un po' questa struttura, come nasce? Allora, questa struttura fa parte della scuola, lei era parzialmente utilizzata e noi attraverso un bando pubblico finanziato dalla Presidenza del Consiglio del Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Nazionale, abbiamo partecipato a questo bando insieme a altre quattro associazioni che sono la WISP, la Napoli a Confiavele, Forti Duto e Scaramacai. Quindi nell'ambito di questa progettazione cos'era il nostro obiettivo? Era quella di supportare e di ripristinare questo luogo affinché poteva essere, e può essere definito, un presidio ad alta densità educativa. Questa azione nasce, questa idea di progetto nasce in contrasto alla povertà educativa che noi incrociamo nei nostri territori. Quindi un'accoglienza dei giovani è un hub che i giovani possono essere loro protagonisti delle proprie azioni e non è l'idea di fare un progetto da somministrare ai giovani. Bambesì è il protagonismo dei giovani, in particolare i giovani non invisibili che non vediamo e non vediamo né nelle scuole né nei posti di lavoro né altri luoghi, ma se non quelli del proprio isolamento individuale, di portarli ad essere cittadini attivi del proprio territorio. Dottoressa Borrelli, avete trovato questa struttura così bella o avete impiegato un po' di tempo per portarla su così come si vede? Allora, come già ha anticipato il Presidente del coordinamento genitori democratici Napoli, il finanziamento pubblico aveva tre obiettivi. Il primo obiettivo era la valorizzazione del bene pubblico e quindi il primo intervento che è stato fatto è stato fatto un intervento proprio di lavori, perché c'erano delle problematiche di infiltrazione d'acqua, le stanze, le aule al primo piano erano fatiscenti e completamente spogne. Anche questa sala teatro non aveva le sedie che lei le vede intorno a noi. Quindi noi, la prima fase è stata quella dei lavori e dell'arredamento della struttura. La seconda fase, quindi il secondo obiettivo del progetto è quello di offrire questi spazi a titolo gratuito ai ragazzi della fascia di data ai 14 ai 35 anni. Che cosa vuol dire? Io sono un gruppo musicale, una compagnia teatrale, non so dove fare le prove. Di tutto il territorio cittadino e anche della provincia di Napoli. Quindi io devo fare delle prove, non ho i soldi per poter pagare una struttura, questa struttura è offerta a titolo gratuito. Oltre a questa azione, la terza è quella di laboratori rivolte sempre a questa fascia di età tra, per esempio, scenografia, chitarra, pittura. Perché? Perché si vuole dare ai ragazzi una competenza base, minima, di quello che può essere anche un obiettivo lavorativo. Per esempio lo scenografo, il tecnico di audio e luce. Le cose di base, quindi... Sì. Abbiamo anche la possibilità di utilizzare la palestra della scuola e quindi ci saranno anche dei corsi per diventare operatore sportivo, per attività di basket, calcetto e pallavolo, ma anche attività di danza. Tutto questo finanziato, appunto come diceva Salvatore Napoli, dal Dipartimento della Gioventù e del Servizio Civile Nazionale. Inoltre, noi, essendo questo un istituto comprensivo, Giovanni XXIII, Aliotta, ha una fascia di età molto più piccola, adesso è ai 13 anni e quindi grazie alla collaborazione con Save the Children siamo riusciti a portare qui anche un altro grande progetto. Abbiamo visto la targa. Che è quello appunto del punto luce che si rivolge alla fascia dei ragazzi più piccoli. Salvatore Napoli. Allora, io ti ho già visto in altre scuole, sei molto attivo e tutto, quindi possiamo dire che questo potrebbe essere un punto di riferimento per tutta la regione Campania? Certamente, peraltro noi dobbiamo attenzione, non lo dico per presunzione, ma il nostro progetto è stato scelto dal Ministero tra le cinque buone pratiche che prevedono tutti i 500 progetti finanziati a livello delle cinque regioni del piano di coesione sociale e quindi noi siamo fortemente attenzionati. Ci sono grosse aspettative di questa modalità che noi ci siamo un po' inventati e speriamo che ci vada bene, ma lo dico non per un fatto personale, ma per l'idea stessa per dare un supporto ai nostri giovani. I ragazzi non pagano niente, i ragazzi vengono qua, hanno la disponibilità della struttura, l'unica cosa che ci viene chiesta a loro è la responsabilità e la responsabilità è che le loro azioni siano coerente con il tracciato culturale che noi andiamo a portare avanti, quindi legalità, responsabilità e competenza, perché noi dobbiamo offrire ai nostri ragazzi un qualcosa di qualità e in più anche qualcosa di bello, perché già offrire a loro un qualcosa di bello, loro che sono deprivati dai propri diritti va a compensare, va perlomeno in minima parte a saldare la loro mancanza di diritti che gli vengono negati in questa fase, quindi noi è in questa ottica che... Per chiudere questa intervista, dottoressa se si sposta un poco facciamo vedere l'email qual è, per contattarvi? Sì, allora la nostra email è ccdinapoli-hotmail.it oppure genitoridemocratici ccdinapoli-genitoridemocratici.it La vogliamo ripetere, ma comunque l'operatore nostro sicuramente la sta facendo vedere e tutto, però è preferibile la voce del segretario. Allora, ccdinapoli-genitoridemocratici.it Vincenzo Paradiso, il responsabile della società MOVE che in effetti è l'estensrice del progetto di questa creazione di nuovo parco. Che significa per Chiaiano avere un parco, anche a livello occupazionale? Innanzitutto questo è un nuovo concetto di parco, perché la storia ci insegna che qualsiasi attività oramai deve autosostenersi, non può basarsi solo su un concetto di pure sovvenzioni. Da qui c'è la presenza quindi anche di società di marketing che guidano questo processo produttivo. Questo è un parco che all'interno ha diverse realtà, certamente quella del ludico, certamente quella dell'educazionale, ma certamente anche quella del food, inteso come ristorazione, come agriturismo e come altre presenze. Anche quella dell'occupazione di carattere alberghiero. Tutti questi settori messi insieme genereranno una fortissima occupazione. Ho visto che addirittura ci sta la creazione di un laghetto artificiale. Un lago artificiale che serve a due funzioni. Una convogliare quelle che sono le acque pluviali che oggi deturpano completamente il parco e dare a queste acque una dignità di luogo dove svolgere sport, dove poter fare canottaggio o anche la pura e semplice balneazione. Questo è un altro dei settori che noi intendiamo come settori produttivi, che tutto questo genera occupazione e genera economia. Non a caso il parco si autosostiene anche dal punto di vista energetico, perché c'è all'interno una centrale fotovoltaica. Quali metri quadri sono più o meno di estensione? Sono 2200 ettari il progetto di tutti gli otto parchi. Questi primi due che partono sono 540 ettari. Questi primi due che partono. Ma partiranno? Noi siamo qua per farli partire. Quello sarebbe il nostro sogno. Ricordiamoci che queste tre cave recuperate in questo progetto erano tre cave destinate a diventare discariche. Quindi il primo peso importante dell'approvazione di questo progetto è proprio la salvezza da questo destino triste che avevano queste cave e la riqualificazione di questi spazi. Quante persone pensate che possono lavorare? In un primo momento i cinque settori occupazionali assorbiranno oltre 300 persone che per logica certamente verranno prese in ambito locale e preparate da quelle che sono le possibilità che offre lo stesso territorio. E abbiamo grandi risorse giovanili sul posto che ahimè non... Per poter usufruire proprio dell'entrata nel parco è previsto un prezzo di ingresso? Assolutamente no. Il parco è fruibile a tutti, è un parco cittadino e inquadrato nell'area metropolitana in questi otto parchi. Le attività all'interno avranno dei costi assolutamente sostenibili e sociali ovvero quello della ristorazione, quello del trekking, quello dello sport ma tutte anche con un risvolto sociale. Certamente penseremo a fasce che non hanno la capacità economica di poter accedere nemmeno a questi servizi e verranno quelle sì spinte e appoggiate dall'economia del parco in generale. Viene una domanda un poco particolare. Le amministrazioni locali, in questo caso la municipalità, il comune, l'ex provincia, la regione e anche lo Stato, vi stanno facilitando questo bellissimo progetto? Io rispondo da non politico. È un progetto che piace a tutti trasversalmente. Certamente ci sono state enormi e meravigliose dichiarazioni di intento. Quello in cui tutti confidano è che queste dichiarazioni di intento si tramutino poi in reale spinta all'operazione. Ma più dal punto di vista autorizzativo che dal punto di vista realmente tecnico perché siamo in grado anche con il consorzio che si è creato con tutti i proprietari delle aree di dare atto a queste cose. Speriamo di non avere ostacoli. La cosa più importante, il primo interlocutore che dovrebbe darvi una mano anche con me è la regione, il comune o lo Stato? Oppure la comunità europea? Io nei miei sogni di non politico vedo un tavolo congiunto che ci appoggi in questa operazione perché non è ipotizzabile che qualcuno faccia sua l'idea creando poi malumori trasversali. Mi piacerebbe che tutti appoggiassero. Questa è un'area metropolitana inquadrata in una più ampia area regionale quindi c'è bisogno di tutti. Speriamo che i sogni si possano realizzare il più presto possibile. Non sono solo i miei, quindi confidiamo proprio che diventi realtà. Comunque partirà anche una mobilitazione oggi allora per la realizzazione. Assolutamente, c'è la volontà dell'area di usare questo progetto come leva per il miglioramento di tutta l'area di Chiaiano e quindi non solo della sola selva ma di tutto il circondario che ne ha bisogno. E noi come televisione siamo sempre a favore degli indiani. E noi abbiamo bisogno di chi ci appoggi. L'ingegnere Cosimo Barbato è il coordinatore di tutte le associazioni di questo parco che deve nascere alla grande nella zona di Chiaiano. Nell'intervista precedente il signor Paradiso metteva in risalto che il grosso già successo è che avete tolto il rischio di altre discariche. Purtroppo il rischio di altre discariche non si è tolto. Infatti noi ci siamo trovati con un decreto del 2008, il decreto legislativo numero 94, ad avere in Chiaiano, o meglio al confine tra Chiaiano e Marano, una discarica che era la vecchia cava del poligono. Improvvisamente quell'area che doveva essere valorizzata è diventata discarica. Quindi la paura dei chiaianesi, dei maranesi, dei comuni e dei cittadini dei comuni limitrofi è proprio questa, che improvvisamente possa venire un'altra emergenza di rifiuti e quindi quello che noi ci auspichiamo che avvenga, cioè il parco delle colline di Napoli con la valorizzazione di tutte le sue aree, venga vanificato perché improvvisamente ci possono arrivare altre discariche ed è dovuto anche a questa la mobilitazione di tutte le associazioni culturali, ambientaliste e sportive di Chiaiano. La grande paura che abbiamo in questo territorio. Ingegnere, i tempi tecnici, volendo essere ottimisti, quanto tempo ci vuole per realizzare a meno in parte questo parco? Diciamo che già dal 2008 è stata finanziata la prima trans del finanziamento, si tratta di 7 milioni e mezzo di euro, il PUA è già stato approvato dal Comune di Napoli ed è nominato PUA Fragolara, i finanziamenti ci sono, basta che la regione nomini un commissario che dia inizio alle procedure di gara e nel giro di 6-7 mesi potremmo già iniziare i primi lavori. Quante persone possono lavorare con questo progetto anche a metà? Anche a metà io dico non meno di 150 persone perché se pensiamo solamente al lago navigabile e al parco giochi all'intorno del lago io dico che avremo tra agriturismi nuovi, agriturismi vecchi che vanno valorizzati, parco giochi non meno di 150 persone attuando una metà di quella che è l'idea del parco metropolitano delle colline di Napoli. Quindi anche esternamente al parco si crea un indotto che può essere utile per la città di Napoli che poi questa è una zona che ha necessità di lavoro. Allora se viene attuato il parco metropolitano delle colline di Napoli ne tratta vantaggio tutta l'area a nord di Napoli, la città di Napoli, i comuni di Marano perché questa è una dei pochi polmoni di verde che è rimasta e se valorizzata così come abbiamo intenzione di fare creerà sviluppo, occupazione e in effetti sarà il fiore all'occhiello non solo della città di Napoli ma di tutta la regione Campania. Oggi è stato invitato qualche parlamentare, qualcuno delle istituzioni? Purtroppo dovevano venire diversi consiglieri regionali e mi auguro che vengano in tempo però abbiamo avuto il consiglio regionale convocato per oggi pomeriggio alle 15.30 quindi faranno di tutto per arrivare. Nel frattempo ha dato la sua adesione il segretario regionale del partito liberale il professor Francesco Sitta, il giovane parlamentare dell'area Giovanni Pallatino e sta per arrivare l'onorevole Tostan. Quindi ci sta già una sensibilizzazione? La sensibilizzazione è forte sia nei cittadini e sta avvenendo questo tipo di sensibilizzazione anche nelle forze politiche. Io dico questo e faccio un auspicocio. Non lo facciamo diventare un discorso di carattere politico ma facciamolo diventare uno sviluppo di carattere sociale e di sviluppo dell'intera area. Quindi uniamoci tutti quanti, cittadini e forze politiche perché si realizzi quello che è già pronto dal 2008. In genere, ritornando al discorso delle istituzioni, chi è che dovrebbe fare qualcosa in più? La Regione, il Comune o la Comunità Europea? Il primo passo lo dovrebbe fare la Regione. Poi verrà il Comune permettere in condizione l'ente Parco, che è un ente con propria personalità giuridica, di attivare la gara di appalto. Di finanziamenti, ripeto, che già sono in essere per 7 milioni e mezzo dal 2008. Quindi noi vi seguiremo in tutti questi lavori e cerchiamo di creare dei dibattiti su questa situazione che secondo me oggi potrebbe essere un volano di economia e di occupazione. Io vi ringrazio già per la presenza stasera e vi disturberemo per il proseguo, augurandoci che insieme a noi, voi, partiamo. Partiamo. Grazie. Giovanni Fioretti è il rappresentante dell'agriturismo Fioretti di Chiaiano che fa parte di questo progetto, quindi come inserimento in questo consorzio. Che cosa vi aspettate da questo progetto, come aspettativi e imprenditoriati? Questo è un ottimo progetto, un progetto che è partito qualche anno fa con la speranza, con la volontà di tutti noi dell'ente parco, del consorzio che va davanti. Un'ottima prospettiva, in quanto ci sono ottimi prospetti per quanto riguarda lo sviluppo del territorio, il turismo, soprattutto per il turismo, che è una bella zona, però ultimamente questa zona è stata un po' martellizzata, che sappiamo tutti quanti. E questa è la speranza, che questo progetto possa essere veramente un trampolino di lancio affinché possa essere sviluppata a livello di turismo, a livello di ristorazione, a livello di attrazione. Quanti ettari sono? Sono 22.000 metri quadri, circa 40 ettari. Quindi è una bella porzione di città, in effetti. Bellissima stazione, sì, bellissima, un polmone verde della città, veramente con l'ente parco potrebbe... Quali ne siete di voi, più o meno? Come consorzio? Sì. Adesso una decina, più di dieci, ma sicuramente aumenteranno ancora. Man mano che vanno avanti i vari step. Sì, i vari step. Allora, noi con questo intervisto ci auguriamo che questo agriturismo possa aumentare sicuramente il numero di persone che lo visitano. Noi ci abbiamo creduto sempre, da mai sono sei anni che siamo partiti, e noi ci crediamo affinché anche le altre attività possano andare avanti, che si possano sviluppare. Anche con questa intervista nella nostra emittente, che vista da parecchi amici, medici, avvocati, possono sicuramente venire da voi, anche indipendentemente dal parco. Vi aspettiamo, vi aspettiamo. Grazie. Il dottore Francesco Siska, il segretario regionale del Partito Liberale della Campania, è già una realtà questo partito, perché abbiamo visto che la conferenza, il convegno che avete fatto a Napoli, la sua presenza già a Chiano, significa che siete già sul territorio. Come vede questa iniziativa? Ma questa è un'iniziativa molto lodevole, perché si parla tanto delle periferie degradate, si è fatta una retorica sempre, ma poi praticamente si è agito non in maniera costruttiva, ma distruttiva. Cioè, questa è diventata una discarica. Si parla tanto della terra dei fuochi, ma le periferie sono spesso discariche non autorizzate, ma sotto sotto autorizzate. Cioè, invece di valorizzare una zona così bella, che va dai Camaldoli, quella del parco, è una zona che avrebbe bisogno di recupero storico, culturale e artistico, perché ha tutte le condizioni per poterlo realizzare, invece viene adoperata come discarica pubblica, addirittura anche ospedaliera. Beh, questa iniziativa è un'iniziativa forte, anche perché i fondi sono stati già devoluti dall'Europa, e quindi ci stanno, sono pronti, perché non si utilizzano. Allora, devo ringraziare tutti quelli che si stanno impegnando in questo. Ringrazio anche Antonio Testa, che è sempre presente nelle iniziative importanti, produttive, per il territorio napoletano. Dottore, sicuramente il Partito Liberale, avendo tutti qui le persone giuste, al posto giusto, può portare avanti questo progetto con la forza della realizzazione. Allora, è proprio nel nostro intento rivalutare Napoli partendo dalle periferie e partendo dal turismo, perché Napoli, anche nelle periferie, non ha niente da invidiare con le più grandi zone delle città europee e con il centro di Napoli. Perché la politica, prima di interessarsi delle zone pedonalizzate, delle zone da mostrare come vetrina, che è anche giusto, deve valorizzare le periferie. perché la vera storia di una città inizia dalla periferia e non dal centro. Dottore, facevo riferimento del Partito Liberale. Oggi voi siete presenti come sede al Grand Hotel Capodimonte che si trova a Via Capodimonte 3. Quindi, chiunque si vuole mettere in contatto può chiedere del Dottore Francesco Siska? Sì, senz'altro. Noi siamo a disposizione di tutti. Per tutte le esigenze. Per qualsiasi esigenza. Noi per questo siamo qui e vogliamo essere presenti in questa competizione perché vogliamo proprio ripartire da Napoli e ripartire soprattutto dalle periferie. Ecco perché oggi sono qui. Alla prossima. Grazie. Carmine Di Guida che fa parte dell'Associazione Resistenza alla Camurra. Contro. Contro la Camurra. Carmine, tu dicevi che eri impegnato con un progetto di riqualificazione anche a livello agrituristico della zona. Noi stiamo facendo un ottimo lavoro sul bene confiscato Amato Lamberti Servala Candona. Io sono l'agricoltore stiamo sistemando il bene confiscato lo stiamo ridando vita però con i parametri della nostra zona con le varietà autoctone con una lavorazione intensiva di agricoltori seri e di persone che si sono sempre sporcate le mani. Quante persone stanno in questo? Siamo sei soci più lavoriamo molto con l'inserimento lavorativo con ex detenuti e con detenuti. Quindi avete fatto già dei corsi di qualificazione in questo settore? Assolutamente sì ma al di fuori di questo facciamo anche inserimento con ex tossicodipendenti. Quindi operate con strutture sociali in effetti e volevo dirti una cosa ma si può anche eventualmente allargare l'organico con la possibilità di questo parco che va avanti? Assolutamente sì la cosa più bella è la crescita io non voglio più pensare io nel 2008 sono stato uno degli artifici con le manifestazioni contro la discarica di Chiaiano abito sopra il dottor vabbè chi per essi hanno fatto di tutto hanno detto solo solo e soltanto bugie noi abbiamo combattuto e a loro sono stati arrestati e denunciati per tutte le cose che dicevamo noi combattavamo noi contro la discarica la discarica io ce l'ho a 50 metri dalla stanza dei miei nipotini io dal 2008 sono passato 8 anni non ne voglio più parlare di discariche perché è una cosa bruttissima nel 2016 pensare ancora di alzare il tappeto e metterli in mondizia questo progetto deve andare avanti proprio per togliere spazio alle discariche noi abbiamo un problema molto 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 grave che nelle 14 cave restanti trasposito tra tutte le altre che ci stanno stanno due che sono dell'impregire l'impregire sappiamo che sono i più grandi imprenditori italiani ormai è inutile girarci intorno è inutile parlare di minchiate e di stupidaggini ormai siamo svegli noi vogliamo il parco noi vogliamo lo sviluppo del parco noi vogliamo posti di lavoro noi vogliamo inserimento lavorativo di giovani di persone giovani ci hanno mascucciato di delle solite persone quindi mi fa piacere di trovare una persona valida con le idee chiare alla prossima grazie Michela Rostan deputato del PD membro della commissione giustizia della camera onorevole la sua presenza qui ha un significato doppio uno perché è un'iniziativa che sta per nascere un'altra è quella a favore diciamo delle persone un poco particolari perché ho intervistato adesso uno giovane che è stato inserito in una cooperativa agricola proprio di persone che hanno bisogno di voi che cosa vuole fare per aiutare queste persone con questo parco ma intanto io credo che da qui da stasera noi dovremmo lanciare un grido d'allarme serio questa è un'area che purtroppo deve incassare tutto quello che ha perso negli scorsi anni e visto che è anche un'area dalle enormi potenzialità perché parliamo dell'unico parco metropolitano che esiste in Italia e soprattutto parliamo di circa 35 milioni di euro che sono ancora fermi e che possono rappresentare una reale opportunità di investimento economico in questo territorio credo sia giunto il momento da parte delle istituzioni della politica dell'amministrazione cittadina che verrà ad impegnarsi seriamente affinché nell'arco di pochi anni si possa reinvestire seriamente in un territorio che ha perso già tanto nel corso degli ultimi anni Onorevole coordinatore di tutta questa associazione Ingegnere Cosimo Barbato ha molta fiducia in lei perché è una giovane che sta vicino alle persone che soffrono possono rivolgersi a lei in primis per portare avanti questi progetti in campo nazionale anche regionale perché lei ha inserito in tutto la mia presenza stasera è la palese testimonianza che possono farlo ho iniziato la mia attività politica al fianco della gente a fianco dei cittadini ma soprattutto delle problematiche dei cittadini sono ben consapevoli di quanto le periferie di Napoli in modo particolare siano soffrenti e soprattutto di quanto i nostri giovani abbiano bisogno di reali opportunità hanno bisogno di reali opportunità in un territorio che ripeto purtroppo ha dato tanto ma ha ricevuto poco e credo che con il contributo di tutti delle associazioni di chi come appunto l'ingegner Cosimo Barbato ha speso tanta e larga parte del suo lavoro in progetti di investimento seri come questi possono certamente dare i risultati che da tempo aspettiamo vi faccio una domanda che esula questa giornata ho apprezzato moltissimo il suo coraggio di appoggiare il bassolino per le primarie mantiene questo impegno? assolutamente sì è una persona che merita datelo una mano detto da me che non sono del vostro partito è una persona per bene e sa fare la politica e noi abbiamo bisogno di persone per bene in questo momento io mi auguro che anche se il partito al limite fa passare un nome che lui si candida lo stesso conoscendolo io dico che lui può fare anche un fatto del genere ma noi il 6 marzo abbiamo una grande un importante avvenimento che sono le primarie è una partecipazione libera e democratica possono votare tutti il 6 marzo e certamente appunto come lei mi diceva abbiamo bisogno di persone per bene ma anche di persone esperte nella nostra città e credo che ci siano tutte le condizioni per poter andare avanti in questa direzione grazie siamo sempre nella scuola Papa Giovanni XXIII di Chiaiano il signor Montignone Montiglione Mariano è coordinatore di Etelandia uno dei coordinatori che significa coordinatore di Etelandia che è anche un parco come questo qua uno dei parchi più antichi della città di Napoli innanzitutto un parco a tema meccanico ed era uno di coloro i quali gestivano la manutenzione coordinavano la manutenzione del parco giochi all'epoca quando era aperto adesso stiamo aspettando anche grazie all'ingegnere Barbato che ha coordinato questa manifestazione l'apertura del parco che si presume sia verso il 20 aprile quello di Etelandia questo qua questo qua io sono molto dispiaciuto che vedo appunto sempre l'imbarazzo della politica nel gestire queste situazioni che in realtà dovrebbero essere un bacino fondamentale sia per la regione Campania che per la città di Napoli vedere queste potenzialità così represse soppresse semplicemente per vezi burocratici oppure per mancanza di volontà da parte delle istituzioni letteralmente fa piangere fa piangere il cittadino 8 milioni bloccati da 8 anni per un lavoro di 35 milioni di euro in cui si prevede un'occupazione di 300 persone cioè 300 famiglie che in una dimensione come Napoli 300 famiglie certe è l'indotto che sta 300 famiglie certe noi parliamo sempre del lavoro certo poi ovviamente quando si innesca un meccanismo tipo come si innescava all'Euca per il Parco Giochi dell'Andia l'indotto molto più spesso dà più occupazione rispetto al valore attuale dell'azienda che si va ad operare vale a dire che se sono 300 famiglie che lavorano in un'azienda altre 1500 lavorano attraverso l'indotto quindi lei pensa che facendo questi dinoni questi convegni una mobilizzazione si può sbloccare qualche cosa ma io trovo scandaloso che bisogna fare una manifestazione per sbloccare dei soldi che inizierebbe una canterizzazione di una cosa che è già stata deliberata cioè è assurdo è un paradosso cioè di solito le manifestazioni si fanno perché si vuole prospettare cioè si vuole inventare un progetto si vuole portare avanti un progetto non perché una delibera è stata approvata e non si è stata attuata cioè questo è a questo punto dobbiamo fare un poco di critica verso la politica che di solito da forme di assistenzialismo senza lavorare quando qua ci sta un progetto con delle idee che concretizzate danno anche lavoro perché la politica si basa su questo la politica sotto sotto alle elezioni diventa poi vuole far finta di essere politica l'assistenzialismo a loro conviene perché mantengono sempre quelle persone in quell'oblio in quella cosa che insomma io ho bisogno di te ho bisogno sempre del politico per portare ad andare avanti noi non vogliamo l'assistenza noi vogliamo lavorare cioè le persone i cittadini vogliono lavorare vogliono essere autosufficienti anche gratificate certo e vogliono votare coloro i quali mettono a disposizione il cittadino il lavoro alla prossima ma ringrazio Stefano Giuseppe che è attualmente il presidente regionale del glorioso partito liberale italiano prima ha intervistato il segretario Francesco Siska e ha detto qualche cosa di importante per l'occupazione per lo sviluppo di quest'area la sua presenza qui sta a significare che cosa? sta a significare di dare un appoggio morale materiale ed anche come partito a questa grande opera che si cerca di sviluppare che può essere un'opera che dà uno sviluppo sul territorio può essere un indotto per la disoccupazione e può essere anche un'opera che riesce a levare dalla strada dei giovani che non sanno cosa fare perché si creerà un parco pubblico che può essere nell'interesse dei giovani ma anche nell'interesse delle persone anziane che molte non sanno cosa fare dove andare e con questo parco pubblico possono passare le loro giornate più serenamente oltre tutto di questa opera ci sono dei fondi bloccati dalla comunità dati dalla comunità e bloccati dalla regione Campania da 2008 35 milioni di euro noi come partito liberale italiano cercheremo di far sbloccare questi fondi e far completare quest'opera che servirà per uno sviluppo del territorio e per far uscire questa zona dal degrado che attualmente gli amministratori politici che governano la nostra città e la nostra provincia hanno così abbandonato grazie mi fa piacere che ci sia qualcuno che pensa a queste giovani ma bisogna pensare perché io penso che io penso che i giovani sono il futuro dell'Italia il futuro della regione Campania il futuro della città di Napoli e della provincia di Napoli quindi i giovani sono la nostra forza io ormai ho fatto il mio tempo però ci sono quelli che dovranno fare per la regione e per l'Italia quindi ci sono se noi teniamo presente qui ogni anno se ne vanno via 3, 4 mila 5 mila giovani una volta partivano i giovani che riuscivano appena a dire buongiorno buonasera e che avevano la zappa in mano oggi vanno via i giovani che hanno delle lauree che sono preparati che sono culturalmente e socialmente a posto ma vanno via perché non ci sono posti di lavoro quindi questa opera se organizzata creerà quei posti di lavoro che forse vuol eliminare un poco quella disoccupazione che c'è sul territorio quindi con queste belle speranze che possiamo dire con certezza che il Pli guarda al futuro il Pli guarda al futuro perché il futuro è l'Italia grazie Giovanni Palladino deputato di Scelta Civica lei è della zona e quindi il coordinatore regionale Cosimo Barbato l'ingegnere e gli altri amici guardano in lei un punto di riferimento per poter realizzare e sbloccare questo bellissimo progetto che speranze diamo a questi giovani ma io diciamo come ha detto lei insomma è vero io abito veramente a pochi metri da qua quindi insomma c'è tanta rabbia perché insomma un progetto anche finanziato che non riesce a decollare Napoli dovrebbe essere comunque all'avanguardia da un punto di vista paesaggistico per la sua collocazione geografica insomma per il suo clima e invece insomma comunque stiamo ancora a pensare di far partire un progetto quando ad oggi dovremmo inaugurarlo su questo insomma io sono fiducioso che la concretezza del governo De Luca come ci sta abituando insomma in questi giorni in questo mandato che è partito farà partire anche questo progetto e naturalmente immagino io questo insomma lo dirò che ci sia una sinergia soprattutto con i cittadini insieme ai cittadini il governo insomma di questo progetto perché deve essere un polmone verde e soprattutto un'opportunità per tutta l'area nord di Napoli quindi togliere anche lo spazio all'eventuale discarica principalmente sì sicuramente insomma anche perché credo che questo territorio abbia sofferto già abbastanza ha già dato e ha fatto un sacrificio in un momento delicatissimo di questa città adesso come era stato promesso questo territorio deve partire come punto di opportunità e valenza insomma maggiore per questo territorio ho fatto delle interviste a persone che sono state intervistate prima mettevano in risalto anche la sbocca occupazionale certo insomma perché insomma veramente si auspicano insomma 300 persone ma addirittura io lavorerei e penserei anche all'indotto che potrebbe comunque portare insomma in questo parco dei colline perché ho visto insomma che tutte la grande progettualità dalle piste ciclabili a polmone verde io dico insomma che dobbiamo abituarci a sognare diciamo un vincitore insomma diceva Nelson Mandela insomma è la persona che non ha smesso di sognare e dobbiamo vedere Napoli come le grandi capitali europee come Londra e Parigi insomma che sono di grandi polmoni verdi sono in Europa Napoli si deve candidare a questo Onorevole tutte queste associazioni ne sono tantissime penso che da oggi con questo incontro guardano a lei quindi lei sarà chiamata sicuramente a svolgere un ruolo di coordinamento istituzionale io sono entrato in Parlamento in questa estate quindi mi sono accorto di una cosa nel momento in cui ho ripreso ad aprire la segreteria che c'è tanta voglia e sete di politica perché faccio sempre molto tardi la sera a ricevere a parlare con i cittadini sono a disposizione di questi territori amo questo territorio io la rappresentante universitario sono stato uno di quelli che ha pensato e ha chiesto che l'università venisse a Scampia perché attraverso la cultura possiamo risolvere anche i problemi di criminalità di questa zona difficile quindi con l'università con il progetto Parco delle Colline io sarò sicuramente un punto di riferimento a disposizione di tutti questi cittadini quindi sicuramente ci vedremo per altre interviste alla prossima certamente vi ringrazio sicuramente sicuramente grazie a tutti